come ha fatto l'aereo? andò in quel cancoppa girato evidentemente è scesa la batteria allora non ce l'ha fatta più perché il cano piano è sceso l'ha perso il cuore è atterrato su questo che veniva da qua il cano piano proprio l'ha visto Andrea oh ma che l'è un modello? e chi l'è venuto Angelo là? l'aereo è atterrato un di noi ma non si vuole per l'abbraccio oh ma non è serra che non si vuole che ho passato l'aereo e infatti io non lo sapevo ma io non lo sapevo ma cosa bello facevi ma che l'hai facevi? ma l'hai che l'hai facevi? ma l'hai che l'hai facevi? ma l'hai capito? ma l'hai capito? ma l'hai capito? aspetta c'è una parte dell'aereo c'è una parte dell'aereo andò io voglio girare mi sapevo 1.6-4 cella che avevo 1.239 3.9 eh ma che si va pure a 6 cella poi non sono che a 4 1.6-8 ma questo è il mio motore è il mio motore buone c'è un motore la F80 non viene vado capito? perché l'hai tirato a me ma come va? è che è il mio tasse cello che va andando si si ma c'hanno due batterie di cernella insomma passecello non so come consuma però quando vedi però adesso potremmo a destra però oh maronna me un po' scendono poco va ma troppo alto eeeh saglia evidentemente non mi ricordo se ci ha già messo la rondella o no ora sto piccando va sottomotoro va a destra eeeh eeeh certo eeeh eeeh e perchè eeeh 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 perchè eeeh 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 su satica ci ha fatto scendere troppo assai c'ha pure un po' i comandi un po' troppo sensibili eeeh saglia 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 eeeh 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 ti senti solo quando va veloce eeeh se no fai sempreUND uuuh 2 una fai sempre eeeh eh eeeh eeeh ma poi non arriva fino a lontano non arriva perché lo giro basta bene basta basta quando sono giro non c'è niente da fare aglio è una sede stu cosa quando sono giro è tutta un'altra cosa è gestibile tu hai capito che le cose che vengono io non ne sono portate più il bagaggio la portava perché non poteva mettere ho rompito il mio e per tu quando aprì io stamattina mi ha giro bloccato il cascino a me ho rietto tutto questo tempo stavamo rietto di mano ah sì no io stamattina si agita un colpo lì e prende la motel e la sede sapeva fare mocca perché voleva restare io volevo beccare la batteria poi ci ha giocato è un po' sensibile